La siccità non è più, per ragioni legate al cambio climatico in particolare, ma anche ad errori strategici di dotazione all'interno del nostro quadro in termini organizzativi di strutture idonee a contrastarne gli effetti, ovviamente quindi grande dispersione di acqua e questo fenomeno che ormai negli ultimi vent'anni ha avuto almeno 5 eventi siccitosi importanti deve essere contrastato con una strategia di previsione di invasi, una strategia di contenimento della dispersione idrica e va fatto con un piano strategico oltre con l'investimento dei fondi. Le due cose devono viaggiare parallelamente, anche su questo ci sono stati forti limiti dell'utilizzo delle risorse disponibili e certamente è mancata la pianificazione. Io ho proposto ai miei colleghi Salvini e Pichetto Fratin di realizzare una cabina di regia coinvolgendo ovviamente come guida Palazzo Ghigi per riuscire a pianificare e poi realizzare interventi di breve termine per affrontare l'urgenza, di medio termine e di lungo termine dandoci un'idea di nazione che sa anche prevenire oltre che curare.